Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba Io sono sespo e non ho più 3 gradi agli occhi per colpa di queste luci Ma è incredibile, oggi siamo da Ono Sushi Experience per fare appunto un experience di sushi Tu sai cosa faremo? Mangeremo il sushi, chi mangia più sushi vince No, non è questa, non è questa Io ho portato delle cose, ho portato due bende Scegli il colore Hai portato il portafoglio Il portafoglio? No, io pensavo offrissi tu L'ospite paga, no? No? Dalla regia? Io prendo l'azzurra Ok Abbiamo un menu Un menu qua davanti E dovremo ordinare da bendati No, ma aspetta a bendarti Posso scegli quello che vuoi? Eh no Uno, uno, dammelo uno che posso scegli Uno? Uno Dalla regia cosa dicono? Quindi noi ordineremo da bendati fin quando non arriverà il piatto Non sappiamo cosa ci arriverà E poi tu dovrai indignare cosa c'è all'interno del piatto Ti ho portato anche una sorpresa Oh, che bello Questo è tutto tuo Oh, mi sembrare di essere tornato a Tokyo Che c'è scritto? Non lo so Chiediamoglielo Dalla regia? Adesso mi ha fatto venire sto dubbio È vero che ho visto Oh, ti sta bene comunque E' bello e bello sempre No, posso solo dire senza wasabi, regà? No, wasabi è l'iper bellezza Sai che oggi ti avvelenerò, vero? Sì, e sono contento Più visual Sarà un trabocchino? Ah, mi hai legato un capello No, no, te lo stavo tirando Io mi fido di te Ah, dalla prima pagina Dalla prima pagina Perché spero ci sia l'unigiri Che è il mio preferito Lo spero Da qua a qua puoi scegliere Il primo l'avevo già letto Quindi sto abbarando Era salmone e il secondo al tonno La regia da questo Si può fare questa cosa? Così e prende il secondo Sei ancora in alto Sei ancora in alto No, no, io voglio questo Io voglio un unigiri al tonno Che mi piace E anche sopra un unigiri al salmone Eh, no, no Uno per pagina Adesso No, apro io qua Apro io Apro lui E prendo Non lo so Giro pagina Allora, qua puoi variare Puoi partire da qui Fino ad arrivare a qui E poi ce n'è uno qua Da solo Questo qua Io da solo Perché mi fa bene E' stato da solo Un 39 Eh, però te lo sai adesso Non vale E beh, ma io sono sbendato Non vale Tu poi si apre i miei Eh, sì, però te Poi quando scegli Già li sai Ma secondo te Se ci bendiamo tutti e due Cosa esce fuori? Ma è bene Pietino va da qui Fino a qui Dimmi stop Stop Questo, mi chiedo di te 203 Ah, ok Voglio il particolare Più particolare Il più particolare vuoi? Tu sei allergica a qualcosa? Sì A cosa? A fare video su YouTube Quindi non sei allergica a niente No Peccato 317 Oh, dimmi Fra, ho finito È finito il libro 323 No, quello è l'ultimo È questo qua Questo Perché ridi? Va schifo Passo vedendo No, non puoi Non puoi Sì, quando non arrivo Aspetta, di una cosa prima io Ma se per caso ho preso tipo una barca Come lo faccia mangiato solo tipo questo qui, 48 pezzi in me C'è il barbuto, c'è il barbuto che mangia tutto Quel barbuto senza la barba Ok Ok, vai Mettiti il capello Io ho paura Allora, ci sono due pagine Questa e questa? Sì 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Qua c'è qualcosa? No, ma non mi ha detto 100 Eh? Perché sei andato in mezzo a due Scegli sopra o sotto Questo, ok È scelta Ok 163 Uno lo voglio scegliere io Vai, che vuoi? Il tacos Voglio il tacos E il filo mexicano Tacos Lo ho scelto, l'ho preso? Sì Eccola 306 Dove vuoi andare? Eh, dimmi la selezione È tutta la pagina Tutta la pagina Quindi la pagina parte da qui No, da qui E finisce qui Ok, vado, eh Sei sceso al centro Chi è che scrocchia le dita? Ok, vai, scegli avanti Cosa, ok, cosa Non mi stai facendo cose da scegliere Ok, aspetta Qui Metti il dito Eh Cos'è? Che schifo Vai, te lo pulisco io Metti il dito Dove vuoi Vado, eh Sì Ah, di nuovo? No, no C'è Non c'è T'è stronza, allora Dai, frate Metti il dito Dai Bevi, bevi Questa era salsa di soia Sì, bravo Allora, comunque Oh, ma voi le dite qualcosa Guarda Spostalo No, no Basta, zio Ma te perché Cioè Ti prendi sempre al centro A me non mi andavo giù No, no, ormai prendi questo Ti manca l'ultimo Madonna, mi pinza le mani però Te lo scelgo io l'ultimo Ecco Ok Scegli Sì Questa pagina o questa pagina? Questa Questa Scegli Questo o questo? Dimmi stop Stop Che cazzo ti ride Ho letto cipolla fritta E mi faceva ridere Vai Ah, ti manca l'ultimo Non è vero Sì No Sì Regia No, manca l'ultimo, è vero Manca l'ultimo Vai Vado Vado No Sono allergico io Il wasabi I piatti sono arrivati Noi non siamo ancora bendati Ci siamo fatti portare dell'acqua per eventuali trabocchini Portiamo il piatto Regia Prima Le dita nel naso Ti devo svelare una cosa Prima c'è stato un trabocchino No, dimmi che almeno c'è lo nigiri Quindi questo qua è l'ultimo piatto che hai scelto Tre virgolette perché te l'ho scelto io Questo è molto bello Che è? Eh, questo è bello Come si prende? Una ciambella, non è un hot dog È una ciambella E quindi c'è il buco al centro È una ciambella con il buco al centro Hai preso il buco? È incredibile questo senso Così vai, ce l'hai però, ce l'hai Dai Peglialo Dove? Dirigimi Allora, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai Qua? Ok Ce l'hai, eh? È un po' aspro È un po' aspro Che cos'è? Cavolo, mi sa che gli ho messo un contorno Il limone era per... Era per bellezza, mi sa, il limone Ah, non era del sushi, il limone? Ok, l'hai pucciato nella salsa Sta succedendo il delirio Che cos'è? Tonno Tonno Io quando mi vendo ho l'ansia Ti dico, è così buono? Eh Ma se lo sta mangiando lui? Perché hai la bocca piena, fra? Sta facendo qualche marchineggio No, no, no Hashtag marchineggio Esatto La parola che ho inventato adesso Marchineggio Lo sento da qua l'odore del wasabi Non ho messo il wasabi, te lo giuro No, non è vero, questo è vero Te lo giuro, non ho messo il wasabi Ti imbocco io, dai No, no, ti imbocco io Vado io, allora dimmi Ma mettimelo qua il piatto, scusa Prendilo, vedete, non so Posso imboccarti Prendi tutto Ti piace la cipolla? La cipolla non mi piace Del tonno E sicuramente del riso Hai indovinato? Ma te lo stai mangiando tu No, no, aspetta Eh, apri la bocca Questa è insalata A me sembra insalata Eh sì, è insalata No, ma sarà la cipolla qualcosa No, no, se no l'avrei sentito Sinceramente avevo paura No, è buono Che mi facessi qualche scherzo Però ci hai provato Perché tu eri convinto Che quella fosse cipolla Siamo pronti per il secondo piatto Questo è molto buono Ah, una scheggia Aspetta, assaggio per dirti se è buono Eh, lei vuole dire è buono Come è fatto? È viola? No, è quel riso modificato Ci sei quasi Piano, 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 piano Vai Vuoi un po' d'acqua? È piccante È spicy Com'è zio? È buono? Sta morendo Il piatto sta proprio qui davanti Allora, vuoi metterlo nella salsa di soia o no? Sì Sicuro? Sì, sì, sì Quanto sicuro? Tanto È molle Cioè, è wasabi questo È wasabi? Prendi? Dai Allora, devo prendere Aspetta che È difficile prendere tutto Allora Ma già tu non riesci neanche con la vista Fammi capire Mi puzza questa cosa Sto stando con le mani Perché non ce la faccio Ti stai mettendo dopo tempo Tieni Tieni Bruno Tieni Bruno E' acqua, è acqua Era solo wasabi Non è che era solo wasabi, guarda Cos'è quella roba lì? I wasabi dentro la salsa di soia Ecco, questo è un piatto rigorosamente grosso Buono, salmone Apri la bocca Apri Fammi annusare È buono Voglio annusare Sa di fragola È un sushi particolare Ce l'hai Non mi chiedo Ma che c'hai messo dentro? È arrivato il nostro piatto preferito Sì? Sì, il nostro piatto preferito Ma quello che ho scelto io È questo È questo? Sì Senza S Tagos Eh no, perché se sono tanti, sono tagos Uno è il tago Un tago? Un tago Un tagis Questo sembra preso da un cartone animato Goku Sì, no, no, questo che è È di Goku proprio L'ha fatto lui? Cosa? È buono? Questo è buono, sì Ma ogni volta che arrivo al mio piatto Sento che è buono Stai mangiando? No, dipende con le mani però questo Ancora anche questo con le mani Ho capito? Oddio Ho capito qual è? Cos'è? È gigante Eh, frate Mi stai uccidendo Adesso l'ultimo Mi bendo io e rimaniamo entrambi i bendati Tutti e due bendati Ma te sei bendato, sì Sì Il piatto precedente Ho preso tutto Perché era un bravo intero Ma poi è una certa sentitù Un dolore, uno sì Ok, ma si può prendere con le mani? È arrivato? Io prendo con le bacchette È arrivato? Sì, è arrivato Ecco, guarda che bello che è Gumido Ah, ok Questo è un bel casino Il mio è buonissimo Non riesco a prenderlo Quindi facciamo una cosa Vuoi che ti imbocco io? Che ci provo? Tu ho preso? No, ancora di più Ancora di più Sbendiamoci frate Sbendiamoci frate Ah, io mi sono sbendato Ah, che hai preso? Era buono il tuo Frate io mi sono sbendato adesso Ma che fai? Ma chi ti ti ha messo? Che fai? Sto malissimo Ma io non ho fatto niente frate Allora, o la regia L'ha preparato già con il wasabi O tu non eri veramente bendato Ah, può essere che l'hanno preparato No, no, mi sa che tu non eri bendato Sì, vabbè è arrivata Allora perché tu dicevi Ah, io ho trovato il tuo Ho trovato il tuo È perché l'ho toccato con la mano Zio, mi hai messo tantissimo No, ma lui ha le telecamere in mano L'ha appoggiata Lui stava facendo le storie Quando ho tolto la benda Lui stava facendo le storie Quando ho tolto la benda Ma poi se te l'ha messo così Oh, vuol dire che mi hai visto Chi l'ha messo l'ha messo Ne avete messo tantissimo Stavo morendo Però ho fatto un bello scherzo Chi l'ha messo Quindi complimenti Però come stucca il sushi Dall'attire Dopo che io sono sicuro 90% che Edo Ha provato a uccidermi E il 10%? 10% alla regia Dichiaro conclusa questa sfida Io sto per esplodere Mi ha fatto un effetto strano Tutto quel wasabi C'erano due vaschette piene Ce ne erano due vaschette piene Ringraziamo Ono Sushi Experience Per averci ospitato Averci permesso di fare questo video Io ringrazio Sespo Che si è prestato Passate dal suo canale in descrizione Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Perché ogni giorno Un nuovo video Bella Bella regà Ciao